La notizia questa volta sembra definitiva e l'asilo Santarelli di Forlì dovrebbe chiudere i battenti in giugno. La scuola per l'infanzia ha avuto una storia gloriosa nella sede attuale per quasi 80 anni, dopodiché nel giro di 4 anni, con l'inglobamento nella pubblica ASP Oasi, l'unico asilo privato laico della città ha subito un inesorabile declino. L'Oasi, schiacciata da circa 2 milioni di euro di debiti, non ce la fa più a mantenere in piedi la scuola nel complesso Santarelli e pochi giorni fa, nel corso di un'assemblea con il Comitato dei genitori della scuola, il sindaco Roberto Balsani ha emesso il verdetto finale di chiusura a giugno. L'asilo intitolato ai benefattori Santarelli avrà però una continuità didattico-pedagogica nei locali dell'ex nave. Il Comitato dei genitori Salviamo il Santarelli ne ha preso atto con la promessa che il Comune assumerà gli stessi insegnanti della scuola dell'infanzia e garantirà, a differenza di quest'anno, l'apertura pomeridiana fino alle 18.30. La novità è quindi che le iscrizioni all'asilo Santarelli saranno aperte anche per l'anno scolastico 2012-2013 ma a settembre ci si trasferirà nei locali della nave nell'area del nuovo campus universitario. Le insegnanti dunque restano le stesse e anche le tariffe. Intanto per tenere in piedi l'asilo si riflette su una modalità che coinvolga anche il privato.